Non andate mai per nessun motivo da soli al cinema alle 3 di notte Ora vi mostro le clip, basta che schiacciate sul tasto rosso e iscriviti in 3 secondi 3, 2, 1 Raga, sto per entrare, questa è la sala 1, state vedendo? Il film è già partito, infatti sento già la musica, sento già i suoni E ci siamo raga Vado